Top and flop dei date audite di ieri, mercoledì 17 luglio. Nella giornata della scomparsa di Andrea Camilleri, papà del commissario Montalbano, grandissimo scrittore siciliano, Rai 1 ha riproposto Conversazione su Tiresia, spettacolo teatrale che era già andato in onda sulla miraglia Rai a marzo e ha raccolto 2.400.000 spettatori. Ieri invece Auditel ha registrato solo 1.700.000, quindi c'è da dire che gli italiani non hanno risposto al cordoglio e alla commemorazione di Camilleri, purtroppo, quindi per noi di fatto è il flop della serata. Top invece per speciali chi l'ha visto, il programma di R3 anche nella versione estiva riesce a mantenere ascolti super, il programma della sciarella è uno zoccolo duro fortissimo che la segue ogni volta che va in onda. Quindi per noi è il top, chi l'ha visto su R3. Vi ricordiamo che tutti i dati audit e le curve e le analisi le trovate sul sito tvzoom.it noi ci rivediamo domani.